Buongiorno a tutti, benvenuti all'inizio della diciottesima edizione di Filmidea. Filmidea è una nostra iniziativa che dura ormai da molti anni e che ha sempre teso a mettere in comunicazione due discipline che spesso non hanno avuto un buon rapporto. Il cinema e la storia. La storia è entrata subito nel cinema. Il primo film italiano, non sappiamo, la presa di Roma del 1905, il primo storico. Ma quello che invece non c'è stato il collegamento è da parte degli storici, gli storici di professioni, gli storici contemporanei, che hanno aspettato molti e molti anni per cominciare a capire l'importanza del cinema. Quindi quando noi abbiamo cominciato quasi vent'anni fa a fare cinema e storia, volevamo proprio stabilire un contatto, mettere un ponte fra queste due discipline, che allora non erano molto, soprattutto gli storici contemporanei non erano, non vedevano il cinema come una fonte di storia, una possibilità di studio e di approfondimento della storia contemporanea. Devo dire che negli ultimissimi anni, qui prima con la professoressa De Luca parlavamo di Sorlène, che è stato nostro ospite e sarà ancora nostro ospite quest'anno, Sorlène e Ferrault, due grandi storici francesi, negli anni 80 hanno cominciato a trattare il cinema come un'importante fonte storica. Questa idea, questo collegamento poi si è sviluppato e ha preso piede poi successivamente anche in Italia e è entrato un po' nei nostri studi, nelle nostre iniziative e quindi sono appunto 18 anni che noi facciamo questa iniziativa, invitando storici del cinema, storici di storia contemporanea e personalità del mondo dello spettacolo, registi, sceneggiatori, autori e anche musicisti, abbiamo avuto Morricone, Bagaloff e altri, è perché loro fanno poi il film storico dal di dentro, quindi ci siamo fatti raccontare come loro affrontano i temi storici. Abbiamo visto che poi in realtà tutti i film sono storici, non soltanto quelli che erano considerati una volta film storici, cioè i film in costume che raccontavano la storia, ma qualsiasi film può essere visto come un importante documento storico. Devo dire che in questi ultimissimi tempi, proprio in questi giorni, in quest'anno, anche gli storici contemporanei, quelli che hanno dedicato una vita alla storia politica, come De Luna per esempio, che ci sarà presente in Romani, Giovanni De Luna, ha scritto un libro appena uscito che si chiama come il cinema che ha fatto gli italiani, cioè il cinema addirittura ha fatto gli italiani. Il professore Emilio Gentile, quello del fascismo, che ha pubblicato un libro con la fascista proprio in questi giorni, ha scritto addirittura un libro su Totò, poi è entrato nella storia. Allora diciamo che questa corrente, questo incontro da parte dei colleghi di storia contemporanea, finalmente questo ponte si è potuto costruire. Oggi io adesso vorrei non fare troppe chiacchiere e lasciare il campo alla nostra collega De Luca, la professoressa Giovanna De Luca, che ci parlerà di un argomento interessantissimo. Io sono il primo a mettermi in ascolto e a imparare molto da lei, perché ci parlerà di una cosa che sicuramente interessa a tutti, che è il cinema italiano in America, cioè negli Stati Uniti. La professoressa De Luca insegna in un'università americana, quindi fa storia del cinema, organizza un importante festival di cinema italiano in questa università, quindi ha il polso della situazione, ha presentato fino a ieri dei film italiani, quindi è la persona più adatta che ci può dare questa argomento. Chi ha fatto storia del cinema con me sa benissimo che il cinema italiano è stato importantissimo per l'America, per gli Stati Uniti, perché nei tempi del muto, quando gli americani ancora non erano quella grande potenza industriale cinematografica, che poi diventeranno dopo la prima guerra mondiale, i film che più erano apprezzati erano proprio quelli italiani, che riguardavano la storia, che riguardavano Roma, che riguardavano il mondo antico, per le qualità che avevano. Tenete presente che in America, in quel periodo, il genere western era poca cosa, erano quattro cavalli, due tende, gli indiani erano delle comparse bianche pittate, quindi non c'era il genere epico di John Ford. Quindi il cinema, il vero cinema, quello spettacolare, anche quello d'arte, era quello italiano. Addirittura gli americani hanno potuto far fare il salto di qualità allo spettacolo cinematografico, fino allora si faceva nei baraccone di legno per un pubblico popolare, alfabeta, poco istruito. Questo cinema, questa qualità dei film italiani, pensare a Cabiria, hanno potuto presentare uno spettacolo che poteva andare nei grandi teatri e addirittura nelle università. C'erano delle università che proiettavano Cabiria come lezione di storia romana per gli allievi dell'università. Quindi noi siamo stati, diciamo, tra quelli che hanno poi dato la possibilità al cinema americano poi di diventare, poi David Walk Griffith su Cabiria ha fatto Intolerance e altri capolavori, poi il cinema americano dopo la Prima Guerra Mondiale è diventato la potenza che ancora è dal punto di vista industriale, ma diciamo l'imprinting, le serie che vedete voi oggi, che vediamo anche in televisione riguardante Pompei, l'Antica Roma, sono state l'imprinting che era dei registi italiani, degli scenografi italiani che hanno la corsa delle biche, il circo, tutto quello, l'agliatore e così via. L'hanno questi modelli, questi chiamiamoli anche stereotipi, li hanno inventati gli italiani, poi gli americani li hanno fatti i propri e noi oggi vediamo l'Antica Roma nei film americani. Il professore Iaccio porta i saluti del direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, il professore Luca Cerchiai che non è potuto essere qui questa mattina e che ci porta i suoi saluti. Torniamo alla professoressa De Luca, ha conseguito un dottorato in letterature comparate all'Università di New York con una specializzazione del cinema, oggi insegna cinema italiano nel collegio di Charleston in South Carolina, dove tra l'altro dal 2007, 2006 dirige un festival, un bellissimo festival che si chiama Nuovo Cinema Italiano Film Festival appunto di cinema italiano negli Stati Uniti, si è occupata nelle sue ricerche, nei suoi studi appunto dei rapporti tra cinema italiano e americano, la mafia nel cinema italiano e americano, il rapporto tra cinema e infanzia e insomma in molti altri temi. Oggi l'abbiamo invitata per parlare, come vi diceva, vi anticipava il professore Cavallo, del professore Giaccio, del cinema americano, del cinema italiano in America, quindi sappiamo che i pubblici non sono tutti uguali, appunto si parla di pubblici, è interessante capire il modo in cui il cinema italiano contemporaneo sia appunto recepito, accolto in America e chi meglio della professoressa De Luca che appunto oltre a insegnare il cinema appunto è direttore artistico di un festival può raccontarcelo, per cui io le cedo la parola. Buongiorno, ringrazio tutti gli organizzatori per avermi invitata qui a Filmidea, avevo sentito parlare di Filmidea, devo ringraziare anche Marcello Ravveduto che conoscevo per i miei studi sulla mafia che mi ha messo anche in contatto con il resto del team di Salerno, con Maria Angela Palmieri e poi anche il professor Giaccio, io lo conosco perché si occupa di cinema del mezzogiorno, allora io volevo integrare nella mia presentazione i diversi componenti che bisogna considerare per la distribuzione del film americano e italiano negli Stati Uniti, in particolare io mi riferirò al cinema recente, al cinema dal 2008 ad oggi, il professor Giaccio perfettamente ha evidenziato l'importanza del cinema italiano negli Stati Uniti con il cinema muto, però il grandissimo successo anche del cinema c'è stato italiano nel secondo dopoguerra, abbiamo cominciato ovviamente con i film neorealisti, con Roma città aperta, poi Paisac proprio ideato e pensato da americani e poi invece realizzato in Italia, poi ovviamente De Sica e poi il picco effettivamente c'è stato, soprattutto in America c'è stato con i film degli anni Sessanta e fino agli anni Settanta, anche con star che sono diventate internazionali come Anna Magnani, come Sofia Loren e altre star in termini di registi come ovviamente Fellini e come Bertolucci, se parlate in America c'è una certa categoria di età, noterete sui cinquant'anni, sessant'anni, tutti hanno visto Bertolucci, tutti hanno visto Fellini, tutti conoscono bene il cinema italiano, la nuova generazione non tanto, però per chi ha poca memoria vediamo un po' che cosa è successo dal 2008 ad oggi, perché c'è stata effettivamente una crisi dopo gli anni Settanta, anche con l'avvento della televisione, fino ai giorni nostri. Vediamo dal 2008 in effetti quali film sono stati maggiormente visti negli Stati Uniti. Allora, Guomorra, poi il divo sempre di Sorrentino, Garrone, Sorrentino, Io sono l'amore di Guadagnino, We have a Pope, Avemus Papam di Moretti, poi La grande bellezza, questo è stato un grande successo, Tales of Tales, anche abbastanza grosso successo di Garrone, Youth, meno successo decisamente rispetto alla grande bellezza, Call Me By Your Name di Guadagnino e recentemente Dogman. La maggioranza di questi film sono stati promossi bene, sono stati film che avevano un appeal internazionale decisamente e sono stati anche film che erano alcuni di questi candidati decisamente all'Oscar come miglior film stranieri. Ma un altro elemento comune a questi film è che sono film con una componente decisamente internazionale, anche in termini di estetica, come Gomorra. Gomorra si distanzia dal cinema un po' super realistico del cinema mafioso in genere per approcciare un cinema un po' più estetizzato e anche più provocatorio, che ovviamente piace agli americani. Io sono un amore guadagnino, sappiamo che ha anche questa sua componente americana, si è specializzato lì e poi abbiamo una star come la Tilda Swinson. Quando hanno promosso il film hanno considerato molto questo fattore estetico dell'Italia, dell'abito eccetera, degli abiti della Swinson eccetera e quindi praticamente è un film che decisamente ha avuto successo. Abemus Papam è ancora Moretti, molto apprezzato negli Stati Uniti, prima ha avuto grosso successo, vedremo anche Miramax come ha promosso, il cinema americano, ha avuto successo anche con la stanza del figlio e quindi We Have a Pope, Abemus Papam anche per questa estetica cattolica italiana con questi bellissimi abiti eccetera, una storia leggera, attratto il pubblico americano. Tales of Tales ovviamente attrici internazionali, YouTube anche se aveva attore internazionali meno famoso ovviamente della grande bellezza, come By Your Name internazionale ancora guadagnino, Asimana ha scritto il test, è un adattamento letterario ambientato a Cremona, topic completamente diciamo attuale, con attore internazionali americani, quindi un sicuro successo e anche Dogman, anche se meno, ancora quanto più realisti sono, vediamo, realistici sono, c'è meno interesse di pubblico. Un giorno vi fornirò tutti i dati sul numero, però insomma questi sono i film più guardati da 2008 fino a oggi. Vorrei fare una piccola parentesi su un altro fenomeno che è importantissimo adesso, considerato che sempre più film adesso vengono per essere promossi, passano attraverso la televisione, Netflix eccetera, anche film italiani e quelli che hanno avuto molto successo e hanno anche aiutato in un certo senso la distribuzione dei film italiani, sono stati il romanzo criminale, come si è detto di Goborra, il commissario Montalbano, però come categoria sociale il commissario Montalbano è molto carino perché appartiene agli amanti, cioè al pubblico amanti, i cultori dell'Italia, però di una certa età. Poi su Burra, Baby, Baby ha avuto un discreto successo con i giovani e poi HBO, il grande successo di L'Amica Geniale. Il successo di L'Amica Geniale, io ti dico sempre, bisogna ringraziare anche, essendo napoletana, anzi san giorgese, bisogna sempre ringraziare Elena Ferrante per questo famoso fenomeno Ferrante, la cosiddetta Ferrante Fever, che ha fatto sì che finalmente Napoli venisse veramente collocata al centro di un interesse internazionale turistico. Noi personalmente, molti di noi abbiamo amici, colleghi americani, eccetera, che ci chiedono di andare a vedere i posti dove c'è stata l'Amica Geniale. Vi ricordo che l'Amica Geniale è stata guardata, è stata letta di più, anzi è stata letta di più, all'inizio negli Stati Uniti piuttosto che in Italia. Il successo, diciamo, della quadrilogia si è verificato dopo. C'è un bel documentario di Giacomo Durzi, titolato Ferrante Fever, che spiega un po' che noi abbiamo proiettato. Allora, per considerare un po' questo cinema italiano negli Stati Uniti, cosa bisogna tenere a mente? Sia la geografia, promozione e distribuzione, questi sono tre elementi fondamentali. I fondi e poi volevo considerare la funzione del Festival del Cinema Italiano negli Stati Uniti e poi un case study da considerare è il mio nuovo cinema italiano film festival, non perché l'organizzi io, ma come una tipologia che inserirò poi in altri tipi di tipologie per farvi capire l'importanza di questi festival di cinema italiano. Allora, perché la geografia è importante? Perché parlavamo anche prima di art theater o cinema indipendenti, si dice. In un cinema normale, multisale, non troverete un film internazionale, trovate solo cinema americano. Questo non si trova. Allora, quali sono invece i cinema dove trovate questi prodotti internazionali? Si chiamano independent theater, oppure art theater, cioè cinema d'arte. E dove si trovano? Ovviamente nelle grandi città. Le città, come vi dite, che per grandezza, presenza di diverse comunità di immigrati, dei cosiddetti expats, che siamo noi espatriati, la nuova generazione di italiani che va negli Stati Uniti, non necessariamente in cerca di lavoro. E per questo queste grosse città sono ovviamente inserite in questi circuiti internazionali importantissimi di arte. Quindi c'è proprio una propensione all'arte internazionale, alla cultura internazionale. Guardando e considerando i diversi numeri, possiamo vedere di cinema indipendenti, possiamo capire quanto cinema internazionale ci possa essere negli Stati Uniti. Per esempio, Los Angeles ha la prima, ovviamente, 15 cinema indipendenti. New York City ne ha 14, scusate, fattucasino qua. Chicago ne ha 7, Seattle anche ne ha 7, Miami 5, Boston 5, Austin, Texas, Austin, Texas, ma Austin è molto internazionale, eccetera, anche ne ha 5. And that's it, nel senso che nel resto degli Stati Uniti ci sono pochissimi cinema indipendenti, o se ci sono, fanno soprattutto cinema nazionale, poi ogni tanto ci presentano un film, diciamo, internazionale. Ma è sempre, è sempre un po' raro. Quindi questa è una cosa abbastanza importante da considerare. Per esempio, dove abito io a Charleston, 500 mila abitanti, città che si considera abbastanza internazionale. Numero uno, secondo questa famosa Condé Nast, in termini di turismo ed ospitalità, c'è soltanto un cinema che fa film anche ogni tanto internazionali, quindi un po' di cinema indipendente, e con molto sguoio è cinema indipendente. Quindi questo, diciamo, è un po' quello che si verifica. Qui c'è un articolo proprio abbastanza recente del New York Times riguardo, diciamo, come il Covid abbia avuto grossi effetti anche su questi art cinema e ancora questi cinema indipendenti, come si sta cercando di aiutare, molti sono chiusi. Poi, chi altro in America provvede alla diffusione e alla promozione del cinema italiano? Gli istituti italiani di cultura. Gli istituti italiani di cultura, i maggiori, e questi sono tutti, sono quelli di New York, Washington DC, San Francisco, Los Angeles e Chicago. That's it, finiti questi, anche questi sono, per esempio, diversi stati, noi nella South Carolina, il nostro istituto italiano di cultura, di cui facciamo parte, è quello di Washington DC, quindi ognuno di loro ha 3-4 stati, eccetera. Poi i consolati, anche i consolati, sostengono e promuovono il cinema, New York, Philadelphia, questi sono tutti i consolati, Miami, Boston, Chicago, Detroit, New Orleans, San Francisco, Houston e Los Angeles. Ma il problema vero in America, per il cinema italiano in America, è veramente la distribuzione. Il problema grosso è la distribuzione del cinema. Ci sono praticamente diversi, questo è anche uno studio molto interessante, l'hanno fatto i nostri colleghi della Cattolica, di Bologna, Roma, insomma, nazionale, con questo PRN, che International Circulation of Italian Cinema, hanno scritto abbastanza, hanno fatto anche delle interviste molto interessanti. e tra la mia conoscenza personale e molte informazioni utilissime, soprattutto nelle interviste, uno dei principali promotori del cinema italiano negli Stati Uniti e oggi Cinema Made in Italy, che è sostenuto dall'Istituto Luce Cinecittà. E di fatti, Ciccutto mi pare, Roberto Ciccutto è l'ex presidente, praticamente aveva contattato questo collega, di fatti lo insegna all'università, della Ira Dutchman, lui insegna a Columbia University a New York, e lo aveva contattato appunto per far sì, perché lui già aveva una compagnia che promuoveva cinema internazionale, affinché promuovesse specificamente il cinema italiano. E quindi lui è estremamente attivo nell'identificare questi teatri, eccetera, dove promuoverlo. Poi cosa abbiamo? I distributori americani di film italiani, quali sono? Prima uno dei maggiori, quello là proprio attivo, era la Miramax, che ormai ovviamente dopo lo scandalo, Weinstein non è più produttiva, che aveva promosso un film come Malena, La Meglio Gioventù, Ovo Sodo, Il Postino, La Stanza del Figlio e il famoso nuovo cinema Paradiso. Poi c'è la Magnolia, anche Magnolia, Strand, Kino, Lorber, poi c'è Menemshia, che noi spesso usiamo per film con tema ebraico, e poi abbiamo il film movement che noi spesso usiamo per film con tema LGBT. L-G-B-T. Ok, quindi questi sono quelli maggiori che si occupano della distribuzione del cinema. italiani negli Stati Uniti. A chi chiede, per esempio, a rappresentanti di questi cinema, anche questa interessantissima intervista che è stata presentata dai colleghi Garofalo, Scaglione, eccetera, al rappresentante della Magnolia, si dice, ma voi pensate che per promuovere di più il cinema italiano ci sia bisogno dello Stato, di altri fondi, eccetera? Si dice, no, quello va bene, il cinema italiano è il secondo più visto e promosso, grazie a questi fondi, dopo quelli francesi. Quindi stiamo bene, rispetto a tutto il cinema internazionale siamo relativamente bene. Ma quali sono i problemi nella distribuzione? I problemi sono del fatto che praticamente i distributori italiani non hanno contatti diretti con i distributori internazionali. Spesso quando io ho avuto registi, attori, eccetera, al film festival, molti alle risposte, alle domande che faceva spesso il pubblico, diceva, ma scusate, ma perché non si vede, perché non lo distribuite? Perché questo è un motivo, perché non si sa, perché non c'è nelle altre sale? Ci sono problemi proprio di distribuzione, spesso, questo prima della legge Franceschini, si promuoveva il cinema fino a un certo punto per ottenere i produttori, i soldi che erano stati investiti e un po' di più. Quindi per andare sul mercato internazionale, a parte il festival, tu devi veramente lavorare, devi lavorare molto. E quindi niente, questo è un problema che adesso però si sta cercando di risolvere. Poi vi sono gli investimenti che fanno gli italiani per la distribuzione. Chi italiano vuole investire molto per la distribuzione? Quale distributore italiano? Deve essere uno affermatissimo, quindi se è un film, diciamo, dei sei e poi, allora ci sono dei problemi. E i distributori americani? Allora, cosa vuole distributore americano? Qui mi riferisco di nuovo a Magnolia, che ovviamente i soldi che vengono spesi per la promozione, eccetera, non siano sprecati e che il film vada visto. Quali sono alcuni dei criteri di selezione? I criteri di selezione sono appunto basati sia sulle zone in cui questi film vengono proiettati, ma anche sul genere del film, considerare la tipologia del pubblico e sul genere del film. Perché parlo di genere? Il genere è importantissimo perché per il tipico spettatore americano non vuole vedere film non spettacolari oppure che riflettano una parte, un'Italia che loro non conoscono nel loro immaginario. Quindi devono essere un po' positivi, un po' solari, un po' ottimisti. Mediterranei. Mediterranei, bravissimo, sono d'accordissimo con questa definizione, mediterranea oppure che mettono in evidenza le bellezze storiche, turistiche e culturali. L'Italia è famosa per il turismo, negli Stati Uniti per il turismo. Difatti ricordo che ad un film festival avreici vedere appunto un documentario su Matera perché sapevo che avrebbe avuto molto pubblico. Allora, in questo contesto di distribuzione, di resistenza praticamente in un certo senso di resistenza al film internazionale, perché ancora una volta ricordiamoci che i francesi e italiani sono al top, immaginate cinema africano, immaginate cinema iraniano, immaginate, che ne so, cinema svedese. Sono quasi, è quasi inesistente, nel senso che veramente viene dopo, dopo, dopo. Se abbiamo noi difficoltà, immaginate l'ordine. Allora, io ho qui una citazione di Bourdieu, che però vorrei anche poi specificare. La funzione del film festival è molto importante, da una parte sul cinema italiano, perché innanzitutto non sono come quelli internazionali, eccetera, dove verrà assolutamente, al 100%, il distributore a vedere, a comprare il film e portarlo fuori. A volte sì, a volte sì, come accade a New York, all'open roads, però non è sempre così. Però, in altri contesti, cosa fanno? Portano questa legittimazione culturale il film festival e per questo si capisce come può essere usata negli Stati Uniti. Allora, possono essere una risposta a questo dominio statunitense. E quindi, cito adesso Bourdieu, che dice i festival sono creano, cioè, sono gabbe, ma anche produttori di gusto, perché contribuiscono a una certa disposizione che produce e riproduce sia quella dei filmmakers che creano i film, che si vengono a vedere, che vengono a vedere al festival, ma anche il tipo di pubblico che va al festival. Quindi, questa legittimazione culturale è abbastanza importante, eccetto, infatti voglio discutere questo, per vedere quanto sia importante la legittimazione culturale negli Stati Uniti d'America. La cultura in generale, sto parlando di pubblico medio, nel pubblico medio, nei termini di culturale, di cultura alta, non è vista molto bene come invece viene vista negli paesi europei, quindi questa è una cosa molto importante da considerare. Allora, per chi è importante questa legittimazione culturale, soprattutto sì, filmmakers, eccetera, per questo pubblico medio, vediamo per chi è importante, come sia importante appunto negli Stati Uniti. E questa si lega ovviamente alla situazione dei fondi, come si sostengono questi film festival, cosa fa l'America per sostenere il cinema, eccetera, dov'è il ministero, dov'è il Mibact in America, dov'è il ministero, non esiste, non esiste, non esiste in America un ministero dei beni culturali, non esiste per la promozione dei beni culturali, quindi che cosa significa? significa che gli investimenti devono riprodurre, cioè devono portare indietro dei soldi, quindi se in Italia noi abbiamo, ringraziando il Dio, le promozioni culturali, come abbiamo detto, anche a livello di fondi, da parte di istituti di cultura, non sempre, consolati, non sempre, perché anche loro ovviamente hanno delle tribulations, eccetera, però le istituzioni che danno fondi sono ancora l'Istituto Lucecini e Città, il Mibact, poi l'Italian Trade Agency, la Camera di Commercio Internazionale, gli istituti culturali, eccetera, e poi in alcuni casi delle entità molto importanti, come per esempio che si occupa di cinema, zone dove il cinema è al centro dell'economia, come a Los Angeles, California, che sarebbe l'American Cinematech. Poi da dove vengono questi fondi per sovvenzionare l'arte? Dai privati, spesso compagnie, questi sponsor, e poi da individui privati, questa è una cosa che noi non abbiamo, cioè in Italia questa cosa è difficile, è diversa, diciamo adesso sta prendendo un po' piede, ma non è una cosa che noi abbiamo, che un privato per esempio dica io sponsorizzo la visione di questo film, devi pagare questo, devi pagare le cifre per far venire questa cifra, per far venire questo attore, questa attrice, questo regista, pago io, e quindi noi sappiamo, dobbiamo menzionare che questa persona ha sostenuto questo, perché si fa questo? Si fa innanzitutto perché così si fa? Due, si fa in questo modo proprio per questa legittimazione culturale, tu se sostieni sempre la stessa compagnia, la stessa organizzazione, eccetera, eccetera, a parte il fatto che dopo un po', se proprio sei un grande dono ti danno un sacco di soldi e ti mettono anche l'insegna, eccetera, eccetera, per un edificio, ma anche praticamente possono decisamente darti è una cosa che si fa soprattutto tra persone nel mondo del business, parlo dei privati, che vogliono avere una certa legittimazione culturale, questo è quello che a loro interessa, quindi questa è una cosa fondamentale. poi cosa ha portato adesso questa globalizzazione, questi Netflix, scusate, questa è una digressione, che praticamente anche con questa globalizzazione, con questi prodotti della Netflix anche fatti in Italia, devono essere editati, devono essere, devono corrispondere ad un modello che possa essere venduto, quindi è sempre meno cinema d'arte, più cinema internazionale, cioè che possa avere un appeal per spettatori del mondo, il che diciamo è un fattore molto positivo, ma forse non tutti i registi, eccetera, sono d'accordo, quindi anche in questo caso voglio dire, esiste una sorta di commercializzazione del cinema, del resto, come dico sempre io, gli scrittori sono fortunati, hanno lo, e il cinema si fa con altre persone e deve essere un lavoro dove praticamente c'è bisogno di fondi, non si può fare diciamo in solitario. Allora, quali sono adesso volevo parlare un po' dei film festival in America, Italian Film Festival in America. La cosa interessante è che la legge Franceschini che ha previsto nella legge 220 del 2016 ha previsto che il cinema possa contribuire alla formazione culturale per la promozione dell'Italia all'estero e quindi meno male più e più italiani distributori italiani sono interessati e rispondono per poter esportare il cinema italiano all'estero. Molte più compagnie di distribuzione internazionale in Italia si stanno presentando e quindi veramente è una cosa positiva. In America ci sono dei film festival abbastanza importanti innanzitutto vorrei fare una precisazione riguardo la parola festival. Anche un evento o una rassegna che qui verrebbe chiamata rassegna o un evento non so insomma in America prendete sempre questo nome festival se sono 12 13 film deve essere festival 14 film deve essere un festival va bene? Anche una retrospettiva Sì proprio questa cosa deve essere chiamata festival alcuni riescono a mantenere una certa non il titolo del titolo riescono a mantenere una certa indipendenza come per esempio Open Roads a New York però altri purtroppo devono bisogna cedere quindi voglio fare questa specificazione e vorrei parlare un po' anche delle funzioni delle tipologie e delle differenze a seconda abbiamo detto anche della geografia e della tipologia del sostegno infatti per esempio quando prima ho detto il sostegno del privato ma spesso ci sono anche i sostegni da parte di compagnie compagnie italiane importanti ovviamente per compagnie italiane importanti che hanno un interesse ad apparire sui backdrops come sostenitori non abbiamo non lo so qualcuno che produce una compagnia che produca bulloni ma certamente abbiamo hotel oppure abbiamo la Campari oppure abbiamo Maserati oppure abbiamo Ferrari o design compagnie di design eccetera quindi queste sono in genere le compagnie dove sono queste compagnie sono in tutte queste grosse città Miami per esempio ne ha diverse di compagnie riguardo di compagnie per di design molte compagnie di design New York anche ma non ci sono decisamente in piccole città se è lui eccetera non ci sono quindi questa è un'altra cosa io volevo introdurre due o tre istituzioni molto importanti per parlare della mia esperienza allora la prima praticamente che vorrei considerare è il nuovo open roads open roads si tiene a New York e si tiene a Lincoln Center a New York che è proprio centrale è una zona dove c'è anche il metropolitan la metropolitan opera house quindi praticamente il met quindi siamo proprio al centro al centro dell'arte di tutto e open roads praticamente nacque da un'idea di veramente di istituto italiano della cinecittà che contattò Riccia Pegna che è un professore di cinema alla Columbia che aveva cominciato a fare un festival un piccolo festival di cinema francese quindi italiani lo contattarono e lui cominciò a fare appunto pensare a questo cinema italiano con il sostegno ovviamente di cinecittà bene è andata benissimo perché innanzitutto c'è il sostegno dell'università americana c'è scusate c'è il sostegno dell'istituto luce l'incolz center anche ha sostenuto New York stiamo parlando di New York una grandissima diciamo comunità di italo-americani di expats eccetera credo fu fondato nel 2005 anche non è molto molto distante dopo Riccia Pegna ci fu Antonio Monda che adesso è il direttore del film festival direttore artistico del film festival di Roma che insegna che lui all'università di NYU è preso anche lui da italiano prese prima ha lavorato con Pegna poi adesso poi dopo diciamo ha preso lui il suo ruolo cinecittà è presentissima per questo film festival dove solo di cinema nuovo cinema contemporaneo cinema nuovo portano una quindicina ventina di film e con registi eccetera per loro impiegano centomila l'istituto luce centomila dollari per questo il resto viene anche da altri fondi ovviamente da lice ma anche da dal lincoln center stesso che ha un interesse perché fa vedere cinema internazionale in genere e poi anche dal new york dal stato di new york grosso successo sempre grosse frequenze molti expats ci sono a vedere film ma anche diciamo persone regolari grandissimo successo istituto l'altro grande film festival che viene organizzato uno è a los angeles la direttrice è la laura degli colli sempre la cormanni è quella che l'ha ideato si chiama cinema italian style e anche lì è molto facile cioè è molto facile diciamo un'ottima accoglienza anche lì ci sono i sostegni ovviamente dell'istituto luce ma siamo una zona ovviamente dove il cinema italiano viene largamente considerato perché siamo dove nella città del cinema e quindi praticamente anche lì grosso successo c'è una piccola ramificazione adesso anche dopo qualche anno la Seattle International Film Festival che ha una sezione italiana sempre legata con questo cinema Italian Style e poi ci sono poi ovviamente i film poi ci sono persone che organizzano per esempio a Miami ad Atlanta ci sono questi film festival piccolini che con 6-7 film ma che hanno soprattutto una film veramente verdone tutti i film divertenti e dopo si organizzano dei parties delle cene eccetera non so come definirli però insomma questi sono questi anche organizzati lì poi c'è un altro film festival italiano che è molto interessante che copre tutto il Midwest ed è legato all'università questo è un altro questo è un altro fenomeno un po' strano questo è nato a St. Louis e poi copre Detroit Boston eccetera ci sono credo 15 film a disposizione nuovo cinema italiano a disposizione però devono coprire da tutte queste aree queste aree spesso legate appunto all'università qualche università mostra tutti e 15 film no qualcuno ne mostra due qualcuno ne mostra dieci dipende dove c'è maggior supporto perché anche lì per ospitare questi film c'è sempre bisogno di di un sostegno economico no cioè bisogna prenotare avere un teatro eccetera e quindi bisogna decisamente fare i conti con questi con questi fondi e questi diciamo sono quelli più importanti poi quello che organizzo io è il compromesso storico è il compromesso storico perché io praticamente l'ambizione era quella di creare un cinema cioè di creare il cinema mettere gli studenti la comunità di fronte al cinema italiano ma so perché conosco diciamo penso di conoscere Charleston che se avessi fatto soltanto la situazione accademica non avrei avuto successo non avrebbe avuto successo ovviamente queste prove ed errori capire prima la società in cui vivi dove vai eccetera e poi dopo ti muovi allora una cosa che devo precisare soprattutto per gli americani per gli italiani scusate è sempre questa situazione appunto dei fondi a volte bisogna specificarlo anche per gli americani le università non ci danno tutti questi fondi questi fondi non ce li danno non ci danno neanche un pagamento extra alcune di esse alcune la mia però possiamo fare domande per avere dei grants e poi ovviamente abbiamo i famosi donors o questi sponsor oppure queste membership e di fatti per esempio nel mio caso questa questa festival costa circa 50.000 dollari il mio college ne fornirà circa 8.000 e il resto ci dobbiamo ci devo pensare io ci dobbiamo pensare noi e questo team di board eccetera eccetera quindi abbiamo a disposizione un bel teatro che si chiama il sottile quello anche lo paghiamo ma non eccessivamente come gli altri e ovviamente vedete anche lo stile sempre sempre un po' antico sempre insomma scusate art deco eccetera eccetera cosa bisogna fare bisogna creare un famoso board board sarebbe un comitato ci sono tre o quattro di noi dell'università che lavoriamo lì però abbiamo bisogno di un comitato anche soprattutto di outsider di personal di fuori che possano discutere di come fa ovviamente creare altri fondi ottenere fondi eccetera pubblicità insomma e altre idee in America il board è fondamentale senza board non va da nessuna parte ogni anno dobbiamo creare anche una situazione in cui noi oltre a queste domande eccetera dobbiamo fare una domanda per ottenere fondi ma dobbiamo fare un cosiddetto evento fundraising per avere fondi per apportare soldi quello anche comporta lavoro organizzazione eccetera eccetera generalmente noi lo facciamo l'evento di fundraising lo facciamo mi ricordo aprile in aprile perché poi a Charleston noi abbiamo il famoso Italian scusate abbiamo lo Spoleto festival la la sede il festival dei due mondi la sede è Charleston South Carolina e il festival è importantissimo purtroppo ancora più importante di questo di Spoleto proprio è un evento importante e questo crea Charleston questo interesse per ciò che è italiano per la cultura italiana eccetera questo l'ha creato quando Menotti venne e stabilì questa scelse Charleston come secondo mondo quindi nel 1977 e quindi dobbiamo considerare tutte queste le date eccetera allora raccolti a dei fondi ecco questo giusto per farvi capire il lavoro questo qui per esempio ogni anno poi deve cambiare no? perché se no uno si annoia anche l'evento questo qui facemmo assieme all'orchestra di Charleston adattamenti musicali di colonne sonora dei film più importanti un bravissimo montatore napoletano ci mise insieme tutti e quindi c'era la sincronizzazione con film e musica e fu un grosso successo grossi investimenti da parte nostra però ottieni altri fondi quindi otteniamo degli altri fondi questi sono gli attori quando alcuni degli attori cosa bisogna fare red carpet red carpet perché se no se non c'è red carpet è accademico accademico e allora che cosa bisogna fare il backdrop il tappeto rosso il tappeto rosso le backdrop devi menzionare tutti coloro che ti hanno dato dei fondi eccetera eccetera con labels eccetera tutto business business sempre anche purtroppo è così e poi i studenti fanno queste internship gli studenti possono venire e fare delle internship che tipo di internship noi offriamo offriamo internship di tipo per diversi tipi di studenti a parte quelli di italianisti a parte quelli di film studies ci sono anche quelli di art management che vengono a fare questi vengono a lavorare per noi oppure quelli di international studies ovviamente noi abbiamo tutte queste richieste perché ancora una volta si ritrovano in questo clima in questa atmosfera molto diciamo sia sì di cinema ma quella la tipica del festival perciò vi dicevo di questa between between kind of situation in cui noi ci ritroviamo poi grazie sempre a questo spoleto bisogna organizzare questi after parties ecco allora questo è molto importante lo facevamo pure noi a Stoccoli ah sì hai visto ecco mi fa piacere sapere questa cosa ecco mi fa piacere fondamentale perché durante lo spoleto quando ci abbiamo tre non so quanti spettacoli duecento non so le famiglie parliamo sempre qua di sostenere sostenitori sostenitori mettono a disposizione queste bellissime case coloniali queste ville e sostengono il festival offrendo questi after parties dopo dopo la proiezione film la sera eccetera si offrono questi after parties dove ci devono essere sempre questi attori questi registi quindi che cosa succede che una cosa molto anomala è che questi attori questi registi che vengono lì non ci stanno per una cosa poi vanno via cioè sono veramente integrati in questa società charlestoniana un po' piccolina eccetera però capiscono effettivamente quello che succede poi c'è questa cosa dell'ospitalità eccetera tutte queste cose così quindi ognuno offre fanno questi famosi after parties gli studenti gli interni spesso sono anche molto coinvolti sul accomodamento anche perché ci sono questi questi Q&A con i registi direttamente poi abbiamo un caffè che facciamo caffè con gli artisti il sabato mattino dove vengono solo gli studenti prendiamo il caffè eccetera e ci sono i nostri ospiti e quindi si fa questo Q&A personale dopo che hanno visto il loro film e insomma parlando con loro specificamente solo per gli studenti poi le altre giornate ci sono gli Q&A quando loro sono presenti tutti gli ospiti che abbiamo avuto effettivamente è un po' diverso questo festival perché effettivamente tu stai 5 giorni 4-5 giorni in questo contesto diciamo di Charleston non con un ex-pats non ce ne sono molti forse solo io no 2-3 poi abbiamo non c'è a Charleston una comunità italo-americana non c'è perché sono solo nelle grandi città con industria che avevano industria eccetera e quindi praticamente è una vera esperienza poi ci sono le visite alle barca a ve il giro in barca a ve la visita eccetera tutte queste cose però gli studenti sono coinvolti a volte prendono gli ospiti li portano e sono contentissimamente gli ospiti perché li portano che ne so a prendere caffè fanno vedere strade eccetera insomma sono molto coinvolti poi abbiamo le cerimonie di premiazione finale questo è napoletano ecco lo fa il nostro amico scultore Lello Lello Esposito quali sono i problemi ecco adesso possiamo andare un attimo è finita la presentazione ma sulla mia faccia ecco ci siamo già ok we're done ci siamo ok ok scusa abbiamo interrotto la presentazione ok allora dicevo quali sono i problemi che sono legati a questo a questo festival e perché parlavo appunto di capitale culturale che è importantissimo negli Stati Uniti d'America diversamente che diversamente forse che no no anche l'Italia sì negli Stati Uniti d'America e perché è importante per il sostegno e sostegno economico a questi festival l'acquisizione del capitale culturale per chi sostiene i festival o qualsiasi tipo di organizzazione artistica è duplice cioè da una parte ti dà una certa libertà per i donors i famosi sostenitori ti dà da loro una certa visibilità persone che sostengono le arti sono importantissime in America noi anche loro hanno grossi sconti fiscali c'è un tax cioè pagano meno tasse eccetera eccetera quindi comunque è una cosa molto buona molto prestigiosa generalmente se pensate a tutta l'arte la metal è fatta di sponsors di donors che vengono spesso associati a questi musei a questi teatri d'opera eccetera qual è il downsize in quelli piccoli è quello è quello che praticamente tu hai sempre in testa sempre la reazione del pubblico o quello che il pubblico vuole e allora c'è sempre un altro compromesso storico mi ricordo una volta una studentessa doveva fare una tesi di dottorato a Milano mi chiama e dice ma lei allora fa solamente film d'arte no no al festival dico no non posso un film de se dico no perché per questo motivo devi capire per esempio per esempio delle cose anche che condividono altri colleghi che organizzano questi film festival per esempio i sottotitoli i sottotitoli che a volte gli italiani creano sono sottotitoli che non sono corretti politicamente e quindi tu non scegli quel film perché sai che potrebbe creare dei problemi dal punto di vista del politically correct perché la sottotitolatura non va bene oppure non va bene come si chiama a volte anche il colore dei sottotitoli perché gli italiani gli americani non amano i sottotitoli e in America però non esiste ringraziando il Dio anche se io stimo tutte queste voci non esiste il doppiaggio eh meno male quindi i sottotitoli sono importanti poi e devono essere ben visibili quale altro problema abbiamo abbiamo sempre per noi eccetera in Italia non esiste il come si chiama la censura mentre invece in America esiste allora per esempio quando io volevo mostrare il film quando ho dovuto mostrare il film Napoli velata ho dovuto io dichiarare che era un film rated vietato ai minori di 18 anni noi l'abbiamo dovuto decidere comprendete che essendo cresciuta in Italia avendo frequentato l'Astra sin da giovane età la mia visione non è simile a altre visioni oppure anche la mia visione è simile a quella la visione di un new yorkese cioè siamo più simili che un new yorkese ecco questo volevo dire quindi e ovviamente se ci sono fondi provenienti dall'altra parte te ne freghi e fai vedere quello che puoi far vedere e invece no anche bisogna considerare cose o film che non vengono proprio presi in considerazione per questo motivo di fatti adesso ho visto questo film bellissimo Freak Houts non so se l'avete già visto è stupendo però ovviamente avendo quest'occhio sempre così stavo pensando ma come risolveranno questa scena in America nel senso di sessualità eccetera di rappresentazione di organi sessuali eccetera anyway quindi ci sono delle componenti che sono veramente determinanti che io di cui io all'inizio veramente non avevo idea e che purtroppo adesso di cui adesso io ho idea come me altre persone che organizzano il festival e penso che alcuni dei nostri registi italiani che siano coscienti di questo badino molto anche perché voi avete reazioni che non sono che sono informate da un'altra cultura soprattutto nel campo contemporaneo nel campo contemporaneo quindi ci sono film che vengono considerati che l'italiano non considera razzista che possono essere considerati razzisti in America questo crea un grosso problema e quindi è molto molto delicata la scelta è molto delicata per esempio film standard che vanno benissimo nel mio contesto eccetera tutto quello che appartiene a Edoardo Di Leo va benissimo sto scherzando ci sono film per esempio questo Martin Hider è piaciuto moltissimo però da commedia film rilassati rilassanti oppure film di questa bellissima di questa bellissima mediterranea Italia con molto senso dell'umorismo questi sono tra i preferiti però questo volevo precisare per esempio per alcune persone ma perché questo film ma perché questo film non è stato così promosso per esempio io Capri Revolution a priori ho detto non posso perché ci sono ci sono i nudi e lo so che tu non li hai visti neanche io li vedo poi dopo hai capito quindi è molto molto particolare una volta Lizzani girando celluloide pregava di 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 non fumare troppo perché poi in America non se lo prendono vedi vedi che c'è coscienza di questo non metterti a fumare troppo se no non se lo prendono vedi vedi che alcuni filmmakers hanno questa coscienza e ci sono queste cose molto molto nascoste diverse della nostra cultura che invece ovviamente creano dei problemi adesso noi con i festival abbiamo più libertà perché col festival possiamo prendere più o meno quello che vogliamo anche se abbiamo delle restrizioni dipende anche dal festival ovviamente io devo anche a volte diciamo ci sono dei problemi alcuni mi propongono i loro film ma altri film se noi vogliamo proprio specifici film noi dobbiamo pagare la screening fee la promozione per la promozione quindi i distributori italiani fino a 3-4 anni fa come mi dicono anche questi altri colleghi americani erano non erano proprio interessati anche però se devo dire che tra italiani e francesi noi siamo molto più avanti nel senso che se un film italiano viene promosso per le vendite internazionali dai francesi il film non lo avrete non c'è veramente non lo avrete ci mettono a mesi non c'è proprio mentre invece se avete a che fare con i distributori americani bellissimo cioè il distributore americano subito interagisce e tappa e questo è un altro problema questo ha rappresentato un grosso problema anche per me per questo parlavo anche un po' di flessibilità personalmente perché in America come sapete si fa tutto molto prima e questo non solo è un mestiere cioè è una situazione questa dei festival in cui le cose per natura si fanno all'ultimo momento ma poi se anche ha a che fare con questi distributori italiani c'è il rischio che proprio questi vanno in panico totale gli americani e io dico sempre sentite o non si fa niente o quindi adesso lo sanno che gli italiani they deliver ma at last moment quindi questa è un po' la situazione ripeto penso abbiamo qualche minuto ringraziamo la professoressa De Luca per questa bellissima relazione chiamiamola così e direi che a questo punto possiamo aprire lo spazio e il tempo delle domande quindi ricordo allora dicevamo c'è un po' parlato di quello che tira nel senso cosa piace agli americani e ovviamente è un criterio che tu tieni molto in considerazione anche nella selezione dei tuoi film hai detto un cinema che in qualche modo trasmette una certa immagine di un'Italia mediterranea di un'Italia turistica però c'è un altro elemento di cui ne abbiamo parlato all'inizio quando ti abbiamo presentato che non è rientrato nella tua relazione che però secondo me è sempre presente la mafia che credo insomma sia un elemento che tiri molto e volevo sapere qualcosa a questo proposito in base alla tua esperienza ok questa è una bella domanda grazie allora vi ho detto un po' dei film che sono stati molto apprezzati in America riguardo la mafia come Gomorra io insegno anche un corso su mafia and movies sulla rappresentazione della mafia nel cinema americano e nel cinema italiano e la risposta spesso dei miei studenti quando arriviamo al cinema italiano partendo ovviamente dal dico io sempre più tardi del cinema americano 47 mi pare e questa cosa it's boring è troppo realista è troppo realista mamma mia proprio parlando di Rosi parlando di questo eccetera allora qual è il problema il problema cioè il cinema di mafia che piace sempre piace il cinema di mafia ma deve essere deve avere qualche elemento spettacolare o qualche elemento proprio diciamo che disturbi moltissimo e e questo deve avere un elemento di spettacolarizzazione se non ce l'ha non va tanto bene poi ricordiamo anche che il cinema mafioso americano rappresenta sempre il 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 come si chiama il mafioso in una maniera abbastanza cool l'elemento deve essere sempre cool noi di mafiosi cool che possa io ricordare non ne abbiamo tanti tranne questi qua di Gomorra che sono proprio super cool e insomma il cinema italiano che che si occupi della mafia deve avere un elemento in cui non è soltanto sui martiri della mafia o sulle persone coinvolte nella famiglia per esempio il film che ha avuto molto successo è stato quello di Piff ok perché c'è ovviamente l'elemento non solo d'estate c'è una lezione c'è una certa leggerezza c'è un tango e quindi è molto molto stato molto apprezzato ma altrimenti deve essere abbastanza spettacolare spettacolare ora nel famoso una famosa storia della degli di sponsorizzazione eccetera un altro elemento che viene è che gli italiani che vivono all'estero e che sostengono anche gli sponsor eccetera non piace non lo gradiscono succede sempre che se qualcuno si alza e dice perché fate vedere questi film che portate discredito all'Italia questo è un problema che sicuramente avrai ogni volta bravo bravo ho capito quindi questa è una e non sono queste quindi questi sono cose abbastanza cioè l'italiano è stanco di essere rappresentato in questo modo anche l'Italia mafia l'Italia mafia i mafiosi eccetera questa cosa è molto cambiata devo dire negli ultimi 6-7 anni c'è stato un cambiamento credo che ci sia stato un cambiamento Marcello può confermare che è un esperto c'è stato un cambiamento dovuto proprio al fatto che la mafia nella sua struttura e costituzione si sia trasformata però ho quello che intendono per mafia gli americani ovviamente c'è una grossa differenza tra la mafia americana dico io e la mafia italiana perché una volta che tu prendi anche se appartieni alla cosa nostra e lo prendi dall'Italia e lo metti in America comunque non vive e la persona è mafiosa nella stessa struttura nella stessa dimensione del mafioso italiano quindi questa è una cosa molto molto importante da considerare però sì se c'è qualcosa attrae deve essere spettacolare spettacolare quindi Rosy no Rosy tra sì tra alcuni vabbè Rosy stiamo parlando un po' del passato però sì 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 Rosy forse l'estetica ha colpito moltissimo però sì infatti bene allora vedo che c'è il professore Cavallo prenotato e gli cediamo la parola per la domanda come d'abitudine sempre se non ci sono studenti perché do sempre la precedenza agli studenti quindi se ci sono altri studenti sono tanti però al momento silenziosi al momento silenziosi allora no non è tanto un intervento quanto come dire un ringraziamento a Giovanna per questa splendida lezione questo splendido intervento perché perché insomma ci ha fatto capire delle cose anche da un punto di vista molto concreto e credo che ecco quello che forse manca nei nostri corsi di scienze della comunicazione e del Davimus è proprio questo aspetto di management culturale cioè un organizzatore culturale deve appunto tenere presente tutte le problematiche di cui ci ha parlato Giovanna e questo mi sembra estremamente interessante per gli studenti cioè capire come la cultura umanistica si sposi perfettamente con una cultura di tipo manageriale e quindi per fare certi lavori bisogna avere come dire entrambe e mi ha molto colpito anche la come dire il parallelo tra più un film realista e diciamo e meno interesse del pubblico e questo fa capire ad esempio il successo del Divo perché il Divo anche se qui secondo me gioca anche come dire la figura di Andreotti che è una figura dal punto di vista internazionale molto conosciuta è il fatto poi che appunto il Divo e allora mi chiedo a proposito proprio del successo del Divo com'è che il film successivo di di Sorrentino This Must Be The Place tra l'altro con Sean Penn è considerato di produzione americana e quindi come tale non rientra in questa classifica oppure invece come dire non non ha incontrato i gusti del pubblico questa era la domanda che volevo fare e comunque ripeto e poi ecco un'altra non so se Giovanna tu hai visto Qui Rido Io sì lo adoro ecco sì è un film che tra l'altro a me è piaciuto moltissimo tra l'altro è stato il primo film che io ho visto dopo la pandemia quindi sono tornato in sala e ho visto questo magnifico secondo te un film come questo che contrariamente a quello che ha scritto qualche d'uno distrugge un'immagine oleografica di Napoli e ti dà una ricostruzione della vita come teatro e del teatro come vita che è che è incredibile e che ha poi questa esplosione di colori di costumi di ecco un film come questo negli Stati Uniti potrebbe avere successo sì sì decisamente decisamente sì allora voglio rispondere un attimo alla domanda prima sul this must be the place americano estetica americana perciò da un da un regista italiano da un regista che noi conosciamo per per una per un'estetica veramente unica e barocca cioè il sorrentino e da tutto il vista estetico secondo me non potrebbe funzionare così bene in altri paesi se non se non l'Italia e quindi è quello che l'Italia è quello che l'americano vuole vedere quindi io penso che parzialmente sia legato anche a questo this must be the place this must be the place invece il successo del divo è anche spiegato perché ecco nel senso della mafia uno c'è la componente mafia due viene anche questa ridicolizzata spettacolarizzata eccetera eccetera la musica il famoso soundtrack del film è incredibile cioè la sparatoria o i riferimenti anche al come si chiama le uscite dall'uscita dalla macchina l'auto che diventa uno skateboard sì è bravo ma l'uscita dalla macchina ci sono diversi riferimenti anche a Scorsese che invece gli americani adorano quindi niente c'è decisamente quello è un film proprio che va ecco che va per tutto riguardo invece l'ultimo film di Martone diversamente da Cambridge Evolution dove stavano un po' più nudi quello invece secondo me avrà un grosso successo uno perché innanzitutto con la comunità italo-americana o ai figli di italo-americani eccetera i quali hanno familiarità con la colonna con la colonna sonora perché quando si parla di canzoni napoletane le canzoni italiane negli stati uniti d'america spesso la vecchia generazione insomma non i miei studenti però la generazione il riferimento sono quelle napoletane queste sono le canzoni italiane e adesso veramente come riferimento qualcuno c'è giovanotti e speriamo adesso stimane skin però non è che ci sia molta consapevolezza di quella che sia la musica attuale italiana e poi esteticamente è un film piacevole gli americani amano il teatro ed è anche una sorta di biopics quindi ha tutte le caratteristiche del film che può avere successo poi anche divertente eccetera quindi sì secondo me è un film che veramente può avere molto successo in America questo è un film glielo auguro a Martone ce l'auguriamo tutti grazie grazie a te ti volevo fare una domanda rispetto ai lavori di Gabriele Mainetti ad esempio lo chiamavano Gig Robo è un prodotto che non è tipicamente italiano ma è riuscito comunque a vendere con cioè è sembrato comunque italiano anche all'estero o è sembrato troppo al di fuori diciamo del classico cinema italiano allora è sembrato al di fuori del classico cinema italiano ha presentato e quindi non è che abbia avuto chissà quale successo io sono convinta anche perché se tu pensi e questa è l'altra cosa importante per questo io sono contenta i film film di genere come quello di Gabriele Mainetti che usano tutti questi props tutte queste cose finte eccetera effetti speciali non esistono in Italia perché ovviamente la produzione di questi film è costosissima Mainetti lo può fare perché lui è anche il produttore lui investe soldi per questo ma questo secondo io credo che sia enormemente mirato per un cinema internazionale e questo penso che possa avere successo innanzitutto c'è l'elemento del circo c'è l'elemento del circo che poi richiama ovviamente la figura nota di Fellini c'è l'elemento ovviamente c'è l'elemento ebraico l'elemento nazista ci sono tutti i particolari e poi il magico il magico noi italiani però questo è un magico italiano questo è un magico italiano questo non puoi visualizzarlo cioè capito non è non è una magia statunitense questa è una magia italiana veramente italiana l'estetica i posti credo sia stato girato anche in parte in Calabria Roma il Colosseo ci sono tutti quei riferimenti che secondo me renderanno il film veramente apprezzato tranne quella famosa scena di quello sulla ruota che non so come verrà apprezzato e poi la come si chiama la violenza anche del nazista la follia questo secondo secondo me è stato studiato strutturato e pensato per veramente un pubblico internazionale e in particolare credo quello statunitense il primo meno sì quindi secondo le riesce a vendere comunque come prodotto italiano perché comunque è un cinema molto diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati anche come dicevo lo chiamavano gig robot nonostante abbia delle caratteristiche molto italiane sempre parliamo sempre un po' di mafia di criminalità però comunque si distacca molto da quello a cui siamo abituati quindi secondo le riesce comunque a vendere come prodotto italiano questo sì questo è italiano esteticamente molto molto italiano quindi secondo me questo qua andrà il secondo il primo era una fase sperimentale meno male ha esposto un po' noi all'estero a un cinema un po' diverso che qui non si fa perché ovviamente la maggioranza delle sovvenzioni finiti grossi produttori del passato passa a Mibact passa alla tradizione realista passa tramite diciamo lo Stato quindi per questo motivo questa base di realista è così importante a parte il fatto che ci appartiene esteticamente culturalmente storicamente ma è anche dovuto a questo quindi sì penso che questo qui sì abbia decisamente avrà decisamente successo io lo mostrei al mio festival i ragazzi giovani lo amarono molto ai ragazzi si cacque moltissimo anche Freaks 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 questo qui di più questo di più sì sì speriamo grazie grazie di sapere Turturro che ha avuto l'intelligenza di usare tutta la tradizione della canzone dell'ospettacolo napoletano e ha fatto un film che si chiama Passioni come l'avete visto sentito cioè c'è tutta la cultura il teatro il cinema la canzone soprattutto questo film in America come l'hanno preso allora il film lì c'erano grossi investimenti si pensava che avrebbe avuto un grosso successo non solo per festival eccetera ma veramente successo in tutte le sale ma non è stato così io vabbè l'ho amato per carità e anche qui in Italia certo ha avuto una diffusione ma non ha avuto una diffusione tale da poter essere poi candidato da poter essere poi un film da candidato candidato anche agli Oscar perché c'è sempre un legame in America tra i film che hanno la potenzialità di essere candidati agli Oscar ma veramente lo calcolano molto bene non è che come facciamo quasi dieci film li portiamo e poi dopo ne studiamo tre e poi lì invece lì no cioè quello che veramente ci crede come per esempio adesso questo distributore della Magnolia in Dogman pensava che avrebbe avuto successo anche se è una storia triste anche se è una storia però come veniva poi ripresa eccetera quindi sì ha avuto un discreto successo ma non ma non enorme anche se se lui è molto molto amato Tortuso veramente molto amato una persona per bene proprio posso posso intervenire su 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 passione cioè nel senso che io ho l'impressione che passione probabilmente non sia piaciuto negli Stati Uniti non lo so questa è una domanda che ti pongo perché Turturro si ha avuto l'intelligenza di correre alla canzone napoletana ma alla nuova canzone napoletana cioè non c'è o c'è in parte la canzone classica napoletana e mentre invece appunto in cui rido io c'è tutta l'antologia delle più belle canzoni napoletane tutta ci sono tutte compresa appunto la più la più bella secondo me che era De Maggio e quindi e probabilmente questo e poi è un film insomma io devo dire la verità insomma secondo me è noioso però questo è un giudizio totalmente personale di cui mi sono tutta la responsabilità una ricerca ma rispetto rispetto agli altri film di Turturro lì c'era una ricerca in passione anche di aggiornare affinché la nuova generazione venisse a conoscenza della canzone napoletana e anche degli influssi internazionali recenti della canzone napoletana quando vengono dei jazzisti napoletani all'estero sono molto amati perché il jazzista napoletano e poi Charleston è all'estero a Charleston il jazzista napoletano è molto aperto a tutte queste influenze internazionali nel suono del jazz soprattutto e quindi vengono apprezzati e Charleston è una città soprattutto molto amata per il jazz quindi ne sono venuti è venuto generazione a far comprendere come si sia poi evoluta la canzone napoletana però a me il film è piaciuto molto ma vabbè io vivo all'estero sì però appunto gli americani evidentemente sono legati a questa immagine dell'Italia se tu gliela sposti un po' bravo questo sì questo sì questo forse sì ecco sì abbiamo spostato un po' questo è vero però apprezziamo quello che si fa per il cinema per la promozione del cinema del anche del cinema napoletano che adesso è così importante è vero allora se non ci sono altre domande credo non ce ne siano io chiuderei qui siamo perfettamente nei tempi questo primo incontro della diciottesima edizione di Filmidea prima di chiudere il video è un'altra domanda